L'Udinese prova soltanto a pareggiare anche perché manca dei due suoi attaccanti, Branca e soprattutto Balbo. Qui un'azione dell'Udinese, la prima, l'unica bella azione dell'Udinese con Dell'Anno che serve Mattei sulla sinistra. Il giocatore si libera di caricola, il suo tiro ad effetto mette in difficoltà Spagnolo. Ma è l'unica azione, dicevamo, veramente bella dell'Udinese. Ora Bortolazzi, Fortunato, Scuravi, prova il diagonale che va al lato della porta di pesa da Di Sarno. Ancora il Genoa, Onorati, stop molto bello di Scuravi, poi Di Sarno non trattiene e Branco mette in rete. Il dodicesimo minuto e il gol partita. Prima della conclusione del tempo c'è ancora l'Udinese, Fiorin la sua respinta è corta.